un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni lotondo ci troviamo nella verandina attigua alla cella numero uno di padre pio per raccontarvi qualcosa che è accaduto proprio in questa cella siamo nel novembre del 1948 e qui si trovava nella cella insieme a padre pio l'architetto giuseppe gentile che seguiva i lavori della nuova chiesa la chiesa di santa maria delle grazie e poi c'era anche piero melillo il dottor melillo che era un grande giocatore di numeri all'otto aveva questo vizio sfrenato era nella stanza di padre pio al che dato che era molto amico dell'architetto ecco chiese all'architetto di dire a padre pio che lui la notte precedente aveva sognato dei numeri e voleva giocarli giuseppe gentile comunica a padre pio questa volontà e comincia a tirar fuori questi numeri allora il primo numero il primo numero padre pio rimane zitto però con un leggero ecco un flettere del capo ha consentito è un numero giusto secondo numero padre pio aveva a fianco il dottor gentile l'architetto gli diede una gomitata quasi per dire va bene però gli ha cambiato un'unità ecco gli ha corretto se era il 9 il 10 se era il 12 il 13 insomma è cambiato quest'unità sul terzo il quarto numero padre pio rimase in silenzio allora subito dopo aver salutato padre pio il dottor piero melillo torno a milano e nel momento in cui si stava recando al botteghino per giocare questi quattro numeri ebbe un dubbio sul silenzio dei del terzo e quarto numero di padre pio e quindi non li gioco gioco solo due numeri in effetti il sabato successivo racconta questo il dottor melillo uscì lambo e lui vinse 25 mila lire era un dottore che ha le prime armi quindi quei soldi gli sarebbero stati utili per la sua vita ma lui tornò qui a san giovanni rotondo e la metà la diede a padre pio come offerta per casa sollievo della sofferenza padre pio gradì quest'offerta la prese però il dottor melillo si rammaricò e gli disse ma come mai padre se veniva fuori la quaterna se mi dava una mano anche per gli altri due numeri io mi sarei ben sistemato ma perché e subito padre pio si fece serio e gli disse caro piero quello che ho fatto l'ho fatto soltanto per farti capire che il gioco non è per te e da quel giorno il dottor melillo non gioco più al gioco dell'otto grazie a tutti